C'è una deroga del termine sino alla fine dell'anno di applicazione delle vecchie norme e quindi sia per gli operatori che per gli ospiti che per i visitatori all'interno di strutture di lungo degenza è previsto l'obbligo della mascherina. Non cambia niente, però i costi sono cambiati nel corso di questi anni e di questi mesi. E questo è uno dei problemi maggiori che ci stiamo trascinando in questi tre anni e che purtroppo rimane di sfondo un po' a tutte le criticità che ci ritroviamo ad affrontare. Domani mattina come enti gestori dei servizi abbiamo un incontro con l'assessore Grattarola e la direttrice del Dipartimento Sanità per l'ennesima volta per trattare queste difficoltà economiche che attanagliano i nostri servizi, cioè i servizi sociosanitari erogati in regime di accreditamento quindi per conto del senso sanitario regionale, vengono rimunerati a tariffa. Queste tariffe sono ferme al 2012. È evidente a tutti che dal 2012 le cose sono cambiate. Sono cambiate le retribuzioni del personale, ci sono stati rinnovi contrattuali. Negli ultimi tre anni ci sono stati i maggiori oneri legati al Covid e poi sappiamo tutti di quello che è il costo delle utenze in questi ultimi anni e mezzo che incide in un modo straordinario. Dal punto di vista lavorativo la carenza delle figure professionali c'era, il problema c'era, è stato fatto qualcosa? Da un punto di vista della carenza delle figure professionali purtroppo la situazione non è migliorata e immaginano anche che necessitano dei tempi lunghi per poter vedere dei cambiamenti significativi. Per quanto riguarda gli operatori sociosanitari che sono la figura di base, Regione Liguria recentemente ha provveduto a emanare un bando a cui vari enti di formazione stanno partecipando per formare 600 operatori sociosanitari a livello Ligure. A livello nazionale si sta ragionando sul dar vita a un nuovo profilo professionale che è sostanzialmente un operatore sociosanitario maggiormente qualificato con un titolo di scuola media superiore in ingresso, quindi aumentando il livello della soglia e che possa sostituire l'infermiere in un qualche modo su alcune mansioni.